salve a tutti il popolo di star trek io sono il capitano jaret e io sono il primo ufficiale sofia siamo qui per augurarvi buone feste e un prospero 2021 questo venerdì nel giorno di natale uscirà una nuova puntata di star trek discovery vogliamo però ricordarvi che il nostro after show di commento all'episodio non andrà in onda il 25 di dicembre ma il 27 ovvero questa domenica si va si va a festeggiare felice natale a tutti grazie a tutti